Ciao a tutti e benvenuti in questo video vlog in cui guardiamo insieme le potenzialità della serie dedicata ad Europa Universalis 4, Mandate of Heaven, che giocheremo insieme nel mese di maggio, probabilmente, e su cui devo ancora decidere quale nazione portare. E questo è il motivo per cui faccio questo video, perché vi voglio dare anche modo di dire la vostra, senza scherzi in questo caso. Ho già pensato a tre opzioni diverse, ma prima di parlarvene voglio spiegarvi come funziona questo video. Io scriverò qui sotto i nomi delle nazioni che adesso vi vado a presentare e terrò in considerazione soltanto la prima classificata di queste nazioni e la terrò in considerazione in base al numero di like che vedo sul commento. Voi avete la possibilità ovviamente di suggerire anche altre nazioni. Se per esempio tra quelle che io ho scritto non c'è la vostra preferita potete scriverla, però siate furbi perché se tutti scrivete la stessa nazione anziché mettere il voto a qualcuno che l'ha già scritta, io non vi considero lontanamente perché un commento da solo non mi interessa, non fa testo. Detto questo, seconda regola, non è permesso richiedere Milano, Aztechi, Svezia, Austria, Bisanzio, Olanda, Etiopia, Papato, Giappone, Brandeburgo oppure Granada. Perché? Perché le ho già fatte e qui sotto c'è la playlist con tutti gli episodi a disposizione, non rifaccio mai le stesse serie. Adesso, tornando a noi, la mia prima idea era Venezia. Venezia è una partita che ho già giocato da solo e su cui mi ero divertito moltissimo, avevo registrato anche molti episodi, però poi l'arrivo di Mandate of Heaven e di altri titoli mi ha fatto desistere dalla pubblicazione, anche perché la qualità dell'audio era purtroppo scarsa. L'avevo registrata in Italia e si sentiva troppo l'avventura del computer, era veramente brutta da pubblicare, l'ho deciso di evitare, però potrei giocarla. Vi dico da subito che è una partita che inizia molto alta, perché Venezia, essendo una repubblica, una serenissima repubblica, mantiene la propria efficienza repubblicana se rimane sotto le 20 province. Questo non significa che non possa espandersi, però non è possibile rendere più di 20 province territorio nazionale, quindi bisogna tenerli come territori non nazionali e quindi rendono molto meno. Quindi facendo un esempio, conquista tutta l'Europa con Venezia senza rendere i territori core, è molto molto meno efficiente che farlo con una nazione invece che è un regno e quindi può espandersi. Questo è l'inizio, poi si può cercare di trasformare Venezia anche in un regno, un impero, oppure mantenere proprio la fisionomia veneziana, utilizzare molti vassalli e magari cercare di ottenere un achievement come la conquista dell'India, qualcosa del genere. Non so se forse con Venezia è un po' ambizioso, però questa potrebbe essere l'idea. La seconda ipotesi che avevo era di giocare con la Polonia, che è stata la nazione con cui ho fatto il Let's Explore di Mandato Heaven. Ricominceremo da capo, ma questo mi permetterebbe di creare la personal union con la Lituania appena possibile, conquistare la costa baltica arrivando il Teutonic Order e vassalizzando il più fretta possibile anche l'Ivonian Order. Dopodiché partiremmo nel giro, dopo una ventina d'anni di gioco, con un blocco baltico e polacco-lituano molto forte. E da lì poi si potrebbe decidere se fare una partita dedicata al Poland coming to space, quindi cercare di giocarla molto alta, oppure una partita più larga. Potremmo cercare di diventare imperatori del Sacro Romano Impero, ad esempio. No, perché la monarchia polacca è elettiva. Potremmo però vedere quali achievement possiamo ottenere. Potremmo cercare addirittura di colonizzare il nuovo mondo. Sarebbe veramente interessante. Questa potrebbe essere un'idea. La terza idea che ho avuto al momento è di riprendere Moscovia. Sapete che ho giocato Moscovia su Project Panama Gaming, però ho fatto soltanto l'achievement di formazione della Russia. Ho giocato quindi dieci episodi e ho formato la Russia a metà del 1500. L'obiettivo con Moscovia sarebbe il medesimo, però una volta formata la Russia, le idee nazionali moscovite sono molto potenti. Core creation cost, si possono mantenere tantissimi uomini. E questo significa che è praticamente una partita molto militare. E potremmo anche in questo caso cercare di giocarla verso Est. Potremmo arrivare a distruggere Ming, ad esempio. Oppure verso Ovest, tentando la conquista dell'Europa. Da qui a fine partita. Molto ambiziosa anche questa idea, però. Tutto è possibile. Queste sono le mie tre idee. Adesso scrivo qui sotto nei commenti i nomi di queste tre nazioni. Voi siete liberi di suggerire altri nomi di nazioni che non ho portato e di votare altri nomi di nazioni che non ho portato scritti da altri utenti. Io terrò questo video comunque sempre aperto e vi ricordo che non mi metterò a registrare adesso. Quindi non significa che se questa sera abbiamo un vincitore definitivo poi sia al 100% questa la nazione. Però visto che capisco che c'è molta voglia di darmi suggerimenti e cercare di influenzare l'andamento delle serie su questo canale, siate liberi. Magari io ho dimenticato una nazione che potrebbe essere molto interessante e che riceverà tantissimi voti ed in quel caso la terrò assolutamente in considerazione. Grazie per essere rimasti con me in questo breve video. Adesso sotto con i voti. Mi raccomando lasciate un like al video e mettete il like alla vostra nazione preferita. Un saluto, e alla prossima.